E' verde perché la grande siccità di questa estate ha ritardato la maturazione e se prima A metà novembre la resa in frantoio su un quintale di oliva era circa di 16-18 litri a quintale, oggi siamo arrivati a 8 litri a quintale Siamo a Sonnino in provincia di Latina, io sono Paola Ghione, qui c'è Mauro Morbidelli che è il mio compagno e il mio marito Stiamo qua ormai da 10 anni, compiamo 10 anni l'8 marzo 2024, però il progetto di cambiare vita e venire a vivere in campagna risale al 2011 E quando da storici contemporaneisti che eravamo decidiamo di cambiare vita Si può dire che dalla cultura siamo passati alla cultura, nel senso che la nostra prima attività è adesso la cura degli olivi E questa pianta veramente speciale che ci ha subito conquistato per la sua potenza anche simbolica E come dicevo questo è un territorio ricchissimo di cultura olivicola C'è un cultivar che si chiama Etrana, che è quello che ci circonda, che produce la cosiddetta oliva di Gaeta, che è una delle prelibatezze laziali Adesso proviamo l'olio che abbiamo fatto l'altro ieri, resa 8 litri a quintale, come dicevo Però vedrete il colore, questo è un monocultivaritrana L'unica strada che ci consenterà di continuare a vivere su questo pianeta anche in futuro Lo abbiamo sfruttato e adesso dobbiamo cercare di restituirgli anche quello che gli abbiamo tolto E gli stiamo togliendo, si può dire, con le nostre azioni quasi quotidianamente Per cui ritornare ad una agricoltura naturale è urgente e fondamentale La nostra ricchezza è vivere qui, in mezzo alla natura, recuperando i tempi della natura Non c'è una ricchezza economica L'onere della gestione di un oliveto è talmente alta Potare, concimare, fare delle ramature, tagliare l'erba I costi sono talmente alti che a malapena con la produzione dell'olio si va in paro Perché uno lo fa? Perché vive qui L'agricoltore, gli agricoltori, chi sta sulla terra può diventare una sentinella di tutti i rischi E di tutti i pericoli che sono altissimi Perché perdere la presenza delle api può significare la perdita dei raccolti Alcune specie sono fortemente a rischio L'olivo è forte, ma non fortissimo perché la siccità la combattere e si difende Ma quando arrivi ad un'aridità quasi totale Il rischio proprio di perdita della produzione dell'attività è forte Perché questo significa più difficoltà di coltivazione Significa produzione sempre più bassa E quindi in alcuni casi impossibilità economica di lavorare sugli oliveti Cioè quello che tu devi mettere come attività e come investimento economico Non ti permette poi di avere un guadagno minimo Perché il lavoro è tantissimo In aree come queste è faticosissimo Perché va fatto principalmente a mani nude O con strumenti molto basici Qui i trattori sono vietati con un terreno di questo tipo E quindi questo significa un aumento dell'abbandono degli oliveti E il rischio reale di un abbandono di attività agricole come questa Questi grigi sono i muretti originali Quelli che si vedono lì più chiari sono stati rifatti Grazie al contributo del PSR della Regione Lazio con i fondi europei Siamo riusciti a ricostruire quell'area lì I muretti a secco e l'intervento di tutela della montagna è decisivo Lo vedete alle mie spalle Il terreno qui è pochissimo Il muretti a secco permette un'accumulazione di terra per far vivere l'olivo E il drenaggio dell'acqua quando scende Questo terreno è sostanzialmente simile a quello friulano dove esistono le foibe Abbiamo delle aree che drenano l'acqua all'interno del monte Ma tanta acqua porta via, crea comunque dissesto Perché come vedete c'è una pendenza altissima Il muretto a secco è la base della coltivazione La base della tutela del territorio Per evitare che le acque distruggano e portino a valle fango e pietre E questo è quello che accade se non c'è cura del territorio Il muretto a secco viene frana Quella era l'antica frana precedente, questa è la nuova Continuerà a venire giù e a degradare tutto Quindi con un rischio di un dissesto continuo è sempre peggiore È più forte il muretto a secco del muro di cemento Il muro di cemento con tanta acqua si gonfia e può crollare Il muretto a secco drena, cioè permette all'acqua con più tempo di scendere senza creare danno Ed è decisivo, è la prima base di questo territorio Non a caso è stato riconosciuto anche come bene immateriale da parte dell'UNESCO Siamo stati fra i protagonisti di chi qui in questa zona, in questo territorio ha promosso il biodistretto Crediamo molto a questa cosa, al tentativo di lavorare insieme ad altri, in rete, in comunità Per tutelare, difendere e valorizzare l'attività biologica La speranza si esemina e si raccoglie E cioè credere in una possibilità di resistenza a questa devastazione È legata all'impegno per far crescere nuove pratiche, anche di generazioni E poi l'impegno a raccogliere i frutti di un lavoro Quindi la speranza nostra è che tutto questo abbia un senso, non solo per la nostra vita ma per l'ambiente Sono piccole gocce ma la nostra speranza è quella Che si possa seminare e che si possa raccogliere un'altra idea di agricoltura E un'altra idea di stare in questo mondo Grazie Grazie